Dopo il viaggio negli Stati Uniti di Luigi Di Maio, i 5 Stelle provano a sciogliere i nodi interni in vista della campagna elettorale. Domani a Milano, vertice con Grillo e Casaleggio. Claudia Mazzola. C'è la prossima campagna elettorale in cima all'agenda 5 Stelle. Domani a Milano, Grillo e Di Maio faranno il punto con Davide Casaleggio. Molti temi sul tavolo. La separazione del bloc di Grillo da quello delle stele, la gestione del territorio, il delicato dossier delle candidature. Il timing grillino prevede che per gennaio le liste siano chiuse. L'obiettivo dei vertici è portare in Parlamento un gruppo di fedelissimi per azzerare il rischio che si formi una minoranza interna. Anche alla luce delle aspirazioni di governo del movimento, ma è proprio la selezione della classe dirigente uno dei nervi scoperti. I due giorni a Washington sono serviti a Di Maio per capire come funziona il congresso dal quale prende l'ispirazione per la formazione di un eventuale esecutivo 5 Stelle. Oltre a dimostrare l'asse M5S USA, ma senza rinunciare al ruolo del movimento in Europa. Ma proprio sulla geografia Di Maio scivola e definisce la Russia paese del Mediterraneo. La linea che si concretizza prima di tutto in un modo di pensare l'Italia nella politica estera. Un paese che non vogliamo isolare, non siamo una forza politica isolazionista. Un paese alleato degli Stati Uniti ma interlocutore dell'Occidente con tanti paesi del Mediterraneo come la Russia. Nella partita, in vista del voto, il nemico politico è il centrodestra e il movimento attacca Salvini sui migranti, poi contro Berlusconi. Ha distrutto l'Italia governando in maniera disastrosa si ritiri dalla politica.